Andiamo! adesso non va più andiamo! 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 ok, la calzata va bene, non è che mi distriggia la zona e la scuola troppo facile al contrario al contrario al contrario al contrario basta contrario allora una volta quello una volta i pantaloni è già partito al contrario vedi? è che per lì è brutto andiamo 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 e e andiamo e guarda mi ha detto che l'ingresso è brutto vengo a vedere posso fare il sasso e tirarlo prima c'era il sasso perché è caduto il pirilla perché è brutto ma io l'ho fatto di là oh te sei quelli bravi lui è più bravo di me dove vai? sul sasso su quello piatto fenomeno dove è il pirilla? questo era lì ma perché è che sposta il pirilla? è caduto ma perché è che sposta il pirilla? no qua c'è l'altro no lo metto nel paletto no 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 da fastidio no no da fastidio lo metto dove lo devi mettere? non c'è la presenza su un sasso su un sasso lì va bene giù del cato non c'è la presenza non provarci appoggia sul davanti bravo è stretta spagge 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 Grazie a tutti.